E' bene amici fratelli della congrega, è da tanto che sognavo questo video, io uomo animalesco sono qui allo zoo, vedete? Zoo Gelateria, così si chiama. Si sono ancora un falotico, un tipo bizzarro, fantastico, strano, strambo e non voglio omologarmi, appiattirmi e imborghesirmi soprattutto. Ho visto questa clip riguardante il comandante che aprirà l'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il Venice Film Festival, dove aprire Luca Guadagnino, ma per via dello sciopero, sciopereranno, lui è Zendaya e lui sciopererà. Mi piace Arthur Schopenhauer, mi piace Girovagare e sono ancora sì un bambino, un falotichino che si emoziona come davanti al primo gelato, questo frappè ho preso anche un caffè, tiè tiè. Non voglio assolutamente ridurmi come la gente espossata, forse espossata, che ha già figliato ed è sistemata, ben pagata, appagata, ma probabilmente insoddisfatta. Comandante, è già stato criticato Pierfrancesco Favino perché è salvatore, il salvatore di questa truppa tecnica, di questa truppa, di questo frappè, di questa truppa frappè, di questa ciurma. Ecco, Salvatore Todaro, cari totari, come direbbero in meridione, si proprono totar, per dire sei proprio un trimone. Lui al timone, vedete come gioco di parole, sono l'unico e sono inimitabile, voglio rimanere così. Per molto tempo la gente non capì. Quando imitavo Robert De Niro a 14 anni la gente pensava che non avessi coscienza e poveri handicappati mi dicevano, mi sollecitavano e sollecitavano per ridere loro, non perché ridessi io, di ripetere a memoria quella frase pronunciata a De Niro nella versione italiana, non è così in originale. Imparerai che cosa vuol dire perdere? Mi trovavo lì al mare. all'epoca corteggiavo una certa vittoria e non utilizzavo il salvagente. Uomini, salvatevi da me. Siete persone mediocre, normali e non mi normalizzerete, ma anche perché io ho combattuto contro tutti gli psichiatri e sono stati affogati, affondati. Dopo quasi quasi prenderò un affogato. Allora, parla un po' veneto, Diobono, me è romano, è l'attore del colibri, del traditore. Me era un siciliano, Buscetta, o questo Salvatore. Facciamo allora Salvatore, siciliano, alla maniera di Pierfrancesco Favino, o in modus falotichino, vero? Poveri piccolini. Minghia! Ci troviamo qua, in alto mare, in senso a tuo cor, tuo corat. E quelli che ti dicono sei un maniaco, vedi di curarti, cercano di suggestionarti, perché puoi ancora permetterti di guardare la bellezza della vita, le donne, le bellezze al bagno, e vorrebbero che non più ti bagnassi, perché dovete sapere che io sono anche una donna, in mezzo alle gambe non ho un cazzo. Non ho un cazzo, ecco. Socio me il Dioporz, qui la situazione si fa veramente brutto, rischiamo di Anagar, fa l'ottico, si è ripresa la grande, adesso ci fa un culo come la casa, Diobono, Diobono, Sto ciucciando? Ciucciatemelo. Bolognese si dice scioccia, significa ciuccia. Cosa? Uomini, che non sapete utilizzare la lingua italiana, ma le lingue che sparlate. Uomini che il prossimo volete affoghi, che sia subissato, si viva in apnea, come un sommergibile, e venga sommerso di offese. Uomini, dopo le immersioni ci vuole la riemersione. Quindi ci vogliono le mie recensioni. Ci sarà Ferrari di Michael Mann, hanno girato delle scene da queste parti, in quel di Imola, qui si chiama Auzano, qui litiga in un pub, dove c'erano dei pubescenti, che pensavano fossi io il deficiente. Uno di questa nave, pensiamo che dobbiamo combattere per la nostra sopravvivenza, è tutta una questione di resilienza, di resilienze, di Nenine. Questo è gelato al cioccolato? No. Dolce un po' salato? No. Frappella stracciatella, con scaglia di cioccolato. Cosa ne pensate di cioccolato? È di Juliette Binoche, che aveva grandi cosce, una donna molto dolce, che preparava i dolci a Johnny Depp, in quel film di Lassie Alstom. Come mi avete chiamato, cagnolino? L'avete visto quel film con Richard Gere, sempre di Lassie Alstom, sposato con Lena Howlin, che con Johnny Depp faceva l'amore in quel film di Polaschi, la nonna Porta. Forse è una gran porca. Ecco, dicevo, vedrò anche il film di Polaschi, The Palace. Non ci sarà Johnny Depp, ci sarà Luca Barbareschi, anche produttore. Vedete i cani come voi, vengono portati al guinzaglio dal padrone. Io non sono schiavo di nessuno. Non ho padroni e non ho da rendere conto a nessuno. Tranne il mio caporedattore, ma anche lui corregge poco. Io sono incorregibile, perché non sbaglio quasi mai. Non commetto rifusi. I miei uomini confusi, sempre più dall'asciutto. Non sapete più che pesci pigliare per l'appunto, per il culo prendere il falò. Avete perso la partita contro di me. Non vi dovevate mettere, neppure azzardarvi. Dico, poveri handicappati di merda. C'è uno che mi prende per il culo, perché mia madre mi insegnava e diceva sempre, quello è un handicap. E allora questo qui ce l'ha con me e dice, falò, handicap. Sicuramente lui è una Cap the Cats. Non può andare al Festival di Venezia perché non ha l'accredito. Voleva diventare una rock star. Non coraggio neanche dal vivo di suonarmene e cantarmele. Avanti, faccia di merda. Sì, ho umili origini. I miei sono della Basilicata. Sono un meridionale di merda, sostanzialmente. Quando le ho fatte incazzare i meridionali, forse non solo come i siculi, ma state sicuri che vi fanno molto male, quando meno ve lo aspettate. Vi ho stanato? Sono io che stanno voi. Quindi che cazzo possono fare questi bolognini qui? Le diagnosi? Le diagnosi? Sì, le diagnosi. Per ficcassero nel buco del culo. Ci voglio essere anche un po' burino. Adesso se fanno due spaghetti e mezzanotte. Spaghetti e mezzanotte. Ok. Ve la siete andate a cercare? Questo con la magliettina, con la madre. È piccolino, dai. Sono due ragazzini. Fanno geletto. E dove vanno? Anche a dare geletto. Le vostre anime adesso sono raggelate, lo so. Fa freddo stasera, molto freddo. No, fa molto caldo. C'è Nerone. Quello che brucia a Roma è una leggenda. Metropolitana. Sono balli colossali. Il Colosseo. Ma come mi vengono? Mi vengono perché io testo i testicoli. E se mi va faccio testa a coda. Rinizio da capo, poi riprendo il cammino e guido più veloce di Ayrton Senegal. Andò a schiantarsi qui a Imola. Ma guidava la Ferrari o la McLaren. E non confondete il gel De L'Oreal con la De L'Oreal di Ritorno al Futuro. Vi saluto. L'avete preso tutti quanti in culo. Ed è giusto così. Abbiamo solo un capitano, un capitano. Quindi io penso all'uomo. Forse mi toglieranno dal comando. Forse mi diranno, ma quello è un povero sfigato disgraziato di merda. Ma voi date retta a quello oligofrenico e biafrenico frenetico del falotico? Sì, date retta a me, non agli altri. Perché gli altri oramai hanno la loro vita. Una vita di tristezza, di tristizie, di malinconie, ripiegata nel passato e non sanno pensare al futuro, neanche a Back to the Future. Grande feed di Robert Zemeckis. You understand? Arriviamo a dieci minuti, dai. Siamo a 9.38, 39, 40, 41. Abbiamo solo un comandante. Che facciamo? Affoghiamo tutti? O risaliamo in superficie? Esploriamo nuove mete, nuovi lidi? Il Lido di Venezia, comandante di Edoardo De Angelis. Dieci.